Iocanto Alessandro Casillo, arriva il primo disco Raduce dall'esperienza canora su piccolo schermo per il programma Iocanto, Alessandro Casillo è finalmente pronto a debuttare sulla scena discografica con il suo primo album intitolato Raccontami chi sei. Prodotto dallo storico manager di Laura Pausini, il disco in questione sarà disponibile su tutti gli store digitali e dal 31 maggio approverà anche nei negozi di dischi, per regalare ai fan dell'artista e a quelli che ancora non hanno avuto il piacere di ascoltarlo, una prima raccolta di brani inediti del protagonista del celebre talent show formato minorenne. Ricordiamo infatti che Alessandro Casillo ha appena 15 anni e nonostante la giovanissima età può già vantare una voce strepitosa ed un talento davvero innato. Ma alla base di questo talento c'è sicuramente una buona dose di passione, quella stessa passione che ha portato l'artista sul palco di Iocanto al fianco dei suoi compagni della boy band Gimmi Fai. E grazie alle sue abilità in brevissimo tempo Alessandro è diventato un leader a tutti gli effetti delle tinegie, e non solo, di tutta Italia per la sua capacità canora, ma anche perché, ammettiamolo, per quanto giovanissimo promette davvero bene anche dal punto di vista estetico. Raccontami chi sei propone una track list dei cinque brani, tra cui spiccano Quasi vivere, il cui compare un Roberto Cenci in versione batterista. Tu ci sei e mi capirai. Ovviamente la nostra aspettativa è quella di vedere ben presto Alessandro su nuovi palcoscenici, come protagonista di un tour interamente dedicato a lui. E chissà che questa prospettiva non si realizzi prima il quanto ci aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.